Io non lo so chi sono, non so se sono italiana, non so se sono parrucchino. Perché non posso mai fare quello che voglio? Quando torna a tuo padre te la vedi con noi. Ma dici davvero? Dico davvero. Io so soltanto che voglio essere come tutti gli altri. Ho letto il volantino. Vabbè, quindi? Che vuoi? Voglio fare la gara. Non si può correre col velo. La corsa è uno sport e ha delle regole. La scimola è pazza. A me non sembra pazza. Come ti sembra? Triste. A volte anche tu sembri triste. Quindi vuoi fare la gara? Sì. E perché? Perché correre vuol dire scappare. Non l'avete detto voi, professor? Giù valore! Giù valore, fatima, dai! Lui vedi queste scarpette rosse? Era uno di un ragazzo. Che correva. Era forte. Ogni tanto mi siedo lì e provo ad ascoltare ancora la sua voce. Ma non sento niente. Non scappava come te. E poi si è fermato. Siamo come l'avi della formica. Chi? Sono due esseri che traggono un beneficio l'uno nell'altro. E questa si chiama simbiosi. L'avi della formica. Mi piace? E' vero. Ma non c'è nulla. E' vero. E' vero. Ma non c'è nulla.